Raga, ho qui un mega pacco di shane. Scusate se non mi faccio vedere, ma sono in condizioni pietose. Non so se percepite la grandezza, ma mi assicuro che è gigante. Andiamo via. Ho preso queste decorazioni natalizie per le unghie. Poi 5 lime buffer rosa e viola, stupende. Una borsa che non ricordo neanche com'è fatta. Semplice nera, molto carina. Paillette brillantini sui toni del bianco e del nero per le unghie. Questo che si mette vicino al cavo del telefono per non farlo spezzare a forma di hot dog. Poi 3 pantaloncini per mano, che adesso inizierà il campo estivo e sono molto comodi e freschi. Questo pigiamino con i dinosauri. Altro pigiamino con i pianeti. Raga, ma quanto sono belli. Poi, passandomi, questo body rosa. Pantalone bianco cargo, super leggero estivo, con i fili. Già ce l'ho nero, questo qui. Poi un costume nero, così. Sperando che non mi vada enorme. E quest'altro rosa. Ragazzi, ma come sono strani i costumi di shane. Io non li capisco. Poi questo top, raga, è la vita. Se non sbaglio ho pagato 4 euro. Bellissimo. Poi questo mimetico, pagato tipo 3 euro. Body uguale a quello rosa, però nero. Canotta giro maniche militare. Che bella questa. Canotta semplicissima, a costine. Poi, altro pantalone cargo, però rosa. Top simile a quello di prima, però bianco. Ancora così, però a fascia. Poi una tutina intera, nera, con lo scollo dietro la schiena. Ritornando a Manu, queste magliettine a mezze maglie. Fatte benissimo. Poi cappellino e la pescatura, super carino. Per Manu. Quando va a mare. E ci vediamo nella parte 2, perché ho finito il tempo. Parte 2 del mega pacco di shane. Nella parte 1 vi ho già fatto vedere questi vestiti. Questi. E adesso passiamo a loro. Beauty blender verdi, di varie dimensioni. Giusto perché ne avevo poche. Questa forbicina per tagliare le cuticole. So che non è il massimo. E l'unica forbicina buona, costa 35-40 euro. Però per iniziare ho letto le recensioni che non è male. Quindi la proveremo. Poi, questi adesivi sempre per le unghie. Le fasce per i catturini. Adesso le apriamo. Rosa antico. Grigio. Tipo magenta. Bianca. Marrone. E nera. Tra tutte le cose in questo pacco, queste erano quelle che desideravo di più. Cioè, raga, sono tipo 160 forcine. Di tutti i colori. Brillantinate. Pagate tipo 3 euro. Cioè, 3 euro. Non so se si nota la bellezza. Ci sono oro, bronzo, marrone, rosse, arancione. Quest'altro colore. Argento, grigio, nero, celeste, azzurro, blu, viola, lilla, fucsia, rosa. Prendetele. Poi, altre mollettine tutte colorate. Ancora mollettine. Perché questo è il periodo delle mollettine e io sono fissata. Rosa, verde, blu, viola e gialle. Poi, questo aggeggio per massaggiare il viso. Sapone fatto in cialdine. Praticamente si mette sotto l'acqua e si scioglie, diventa sapone. Da portare in borsa. Bellissimo. Altre paillettes per le unghie. Decorazioni a fiori per le unghie. Asciugamanino rosa per la palestra. Questo contenitore trasparente. Brillantini rosa per le unghie. Questo organizzatore per mettere le penne, gli evidenziatori. E qui, porta un cassettino. Borraccia di 3 litri trasparente. Adoro, questa mi aiuterà tanto a bere. Poi, altro organizzatore trasparente. Ancora un altro. Un altro ancora. Questo qui per i rossetti. Cruce rosa per l'armadio. Questo che ho preso per la seconda volta. Un altro di questo. Lime 100-180. Sono a righello, cioè porta il righello qui per misurare le unghie. Altre lime. Pietre colorate, sempre per le unghie. Costume. Cappellino per Manu che ho scritto mini boss. Altro organizzatore. Scarpiera che si deve montare. Slip. Tovagliette rosa di carta. Mono uso per quando faccio le unghie. Tre canotte per Manu. Bianca, grigia e blu. Ancora decorazioni per unghie. Ultimissima cosa. Un altro organizzatore. Questa è la situazione. E ho ancora altri due pacchi da farvi vedere. Questa è la situazione. Questa è la situazione.